Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Sarà uno? Cioè è facile ragazzo, non lo vedete sbagliare Vado? Aspetta che devo, alziamo la trasposizione così facciamo gli acuti Andiamo raga, canto un po' la Mariah Carey Ok Vado eh I don't wanna love for Christmas There are guys that I need Quella ti posso morire Già quello Eh vabbè se ti piace il pesce ti tieni Beh il pesce non è me fa un pazzi tutto eh Io magno un sacco di cozze ma provo tante Me ne magno E bruschette E bruschette con Me dissorgio da sta cosa Che ammissione eh Cos'è sto rispondendo? Cioè cos'è sto rispondendo? Cioè addio Facco qualcosa Non c'è mai uno Va distrutto Eh c'è la gula con il cucchiaio Cosa? Guarda che armò Dario Un cucchiaio ma sto scherzando C'è un cucchiaio guarda C'è amato che ti deride in chat Dario Dio cane io faccio it marker e lui no Nooo Brother ma dai Ma poi che cazzo è? La lascia di Babbo Natale stai qui a bestemmiare cioè Minchia Brother giuro Ma che è sta armanico? Mira Ma che miri al contrario scusa Senta lo rifaccio pronto? Sei pronto? Sì sì vai Vola Jack Andiamo Tira tutto intorno al mondo Perfetto senti male il Jack Ti giuro perché quando ho fatto un po' Un po' di merda l'odio giuro Cioè No ma è tutto paccato raga Perché il tipo a stare sull'aereo Inizia a muoversi Non c'è sull'aereo Non lo puoi colpire Cioè l'aereo parte E lui non si vede ancora Capito? Prende velocità King verde Ma stannato elfo di merda bastardo Raga Morto perché l'elfo mi stanna Ma Dio canta Raga io sto quittando dai Mamma ma non voglio bestemmiare il giorno di Natale Ma porco zio lupo cioè Morto perché l'elfo mi stanna Dio di quel Cristo Vinci Prima di fare il lancio dovete fare la missione Dai Kumi Perché non ti muovi? Però sono io No Fuck Eh vabbè Sono io Pensavo di stare aspettando te Io ero fe... Mamma mia Sono forte ancora la pistolina Ciao Mu Oh Dio santo mi sento male Creepate ragazzi mi prego Mi prego Allora ok Mu 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 Non ci provare mai più Non ci provare mai più Io mai... MAI PIOOOOO No, 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 ma Fili, Fili, Gesù Cristo, non hai detto un cazzo fino a mo' Ma torna a non dire un cazzo e stai zitto, non ce l'ho pure coglioni, che parla quando andano a parlare Arriva per dire cosa, la seconda bad idea qual era? Quella di tuo padre era la seconda bad idea, quella di averti fatto nascere dopo Paul come secondo figlio no però però credo che lo fai seducer dove erano questi stronzi dalla alla fine degli stabili di quello stabile oh padonna però anche te eric gli servi sul piatto e se l'hai preso sei personale ma dove andiamo? ma che cazzo ne so no no andiamo là va da fuori sei arancione anzi qui qui arancione arancione punto giallo alterate per l'amore della madonna eh lo so uomo è uomo c'è nessuno non si fa favore che cazzo che cazzo mi sono altra terra mi sarebbe una mano sono qua a contrario ultimo a destra no dietro scusami nemmeno non lo so sull'auto 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 loro dove l'auto pica dietro fissato a terra e li muro sium sium stupendo stupendo sium stupendo se avete visto questa kill io non ci sto credendo Oh no Ci sono, ci sono No ma questa è una cassa Ma sei te? Non me la apre Ok Mamuso che ho fatto? Scusate le casse non sono Quanto costa l'angelo di rifornimento? 10k credo Ok Ma cos'è questo cecchino? Ragazzi Ma dove sei te? Sono qua